Benvenuti e bentornati cari amici. In italiano ci sono pronomi che vengono chiamati pronomi diretti. Lo, la, li, le. Ed è proprio quello che vedremo in questo video. Per cominciare dovremmo sapere queste due domande. Che cosa e chi? Perché le useremo? Cos'è un pronome diretto? Se noi diciamo ad esempio vedo un film su Netflix, lo vedo spesso. Posso rendermi conto che il pronome diretto lo sostituisce un film. Posso anche fare una domanda per individuare questo. Che cosa vedo? Vedo un film. Lo vedo. Potrei anche fare delle domande del tipo Vevi un film? Sì, lo vedo. Leggi questo libro? Sì, lo leggo. Vevi il mio vino? Sì, lo bevo. Conosci Marco? Sì, lo conosco. Ne deduco quindi che lo sostituisce un film, questo libro, il mio vino e Marco. E pertanto sostituisce un oggetto e anche un nome. E pertanto posso dire lo vedo, lo leggo, lo bevo, lo conosco. Vediamo anche questo caso. Vedo una serie su Netflix, la vedo sempre. Possiamo renderci conto che il pronome diretto la sostituisce una serie. Possiamo anche fare una domanda per individuare questo. Che cosa vedo? Vedo una serie, la vedo. Potrei anche fare delle domande del tipo Vedi una serie? Sì, la vedo. Leggi questa rivista? Sì, la leggo. Mangi la mia pizza? Sì, la mangio. Conosci Martina? Sì, la conosco. Ne deduco quindi che la sostituisce una serie, questa rivista, la mia pizza, Martina. Ed è proprio per questo che dico la vedo, la leggo, la mangio, la conosco. Perché poi posso anche fare la domanda. Che cosa vedo? Che cosa leggo? Che cosa leggo? Che cosa mangio? Chi conosco? Cioè, che cosa vedo? Una serie, la vedo. Che cosa leggo? Questa rivista, la leggo. Che cosa mangio? La mia pizza, la mangio. Che chi conosco? Conosco Martina. Vediamo questo esempio. Compro i gelati e li mangio. Possiamo renderci conto che il pronome diretto li sostituisce i gelati. Possiamo anche fare una domanda per individuare ciò che abbiamo appena detto. Che cosa compro? Compro i gelati, li mangio. Possiamo anche fare delle domande del tipo Ne deduco quindi che il pronome diretto li sostituisce, in questo caso, i film. Questi libri, i miei gelati, i miei gelati, Marco e Martina. E di conseguenza posso dire, li vedo, li vedo, li leggo, li mangio, li conosco. Perché poi posso anche fare queste domande. Che cosa vedi? I film, li vedo. Che cosa leggi? Questi libri, questi libri, li leggo. Che cosa mangi? I miei gelati, li mangio. Chi conosci? Marco e Martina, li conosco. E ora vediamo anche questo caso. Compro le fragole e le mangio. Possiamo renderci conto che il pronome diretto le sostituisce le fragole. E possiamo anche fare una domanda per individuare, per riconoscere ciò che abbiamo appena detto. Che cosa compro? Compro le fragole, le mangio. Possiamo anche fare delle domande. Vedi le serie? Sì, le vedo. Leggi queste riviste? Sì, le leggo. Mangi le mie fragole? Sì, le mangio. Conosci Martina e Natalia? Sì, le conosco. Mi rendo subito conto che il pronome diretto le sostituisce le serie, queste riviste, le mie fragole, Martina e Natalia. E di conseguenza posso dire le vedo, le leggo, le mangio, le conosco. Anche perché posso fare delle domande. Che cosa vedo? Le serie le vedo. Che cosa leggo? Queste riviste le leggo. Che cosa mangio? Le mie fragole le mangio. Chi conosco? Martina e Natalia. Le conosco. E tenendo conto tutto quello che abbiamo detto prima, possiamo vedere questa tabella. I pronomi diretti. Maschile, singolare, lo. Maschile, plurale, li. Femminile, singolare, la. E femminile, plurale, le. Quello che abbiamo appena visto prima. Lo sostituisce un film, questo libro, il mio vino, Marco. Lo vedo, lo leggo, lo bevo, lo conosco. La sostituisce una serie, questa rivista, la mia pizza, Martina. La vedo, la leggo, la mangio, la conosco. Li sostituisce i film, questi libri, i miei gelati, Marco e Martina. Li vedo, li leggo, li mangio, li conosco. Le sostituisce le serie, queste riviste, le mie fragole, Martina e Natalia. Le vedo, le leggo, le mangio, le conosco. E ora, facciamo questo. I miei amici hanno viaggiato in Brasile e non vedo quest'estate. Domani è il compleanno di Natalia, ma telefoniamo oggi. Ho conosciuto un'amica brasiliana e voglio invitare a cena entro stasera. Marco ha molti amici e oggi... Chiama per andare tutti insieme in discoteca. Marco ha molte amiche e oggi... Chiama per andare tutti insieme in discoteca. Mi piace andare in palestra. Ci vado da solo e... Faccio tutti i giorni. Guardo la serie su Netflix, ma stasera non vedo perché devo studiare. Guardo le serie... E ora non vedo perché devo preparare la cena. Mi annoio se vado al parco e per questo non... Faccio quasi mai. Cerca di rispondere ogni domanda nei commenti. È stato un piacere e spero sia stato utile questo video. Se ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.